Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo video, un video di impressioni barra aggiornamenti a proposito dell'imminente update, chiamiamolo aggiornamento update 2.0 di Cyberpunk 2077 che arriverà il 21 di questo mese. Come potete vedere mi trovo sulla pagina della pianificazione Build, questa pagina, mi trovo su una pagina internet, è stata rilasciata da CD Projekt per dare la possibilità ai diretti interessati di cominciare a vedere tutte le abilità e tutte le modifiche che verranno implementate con l'update 2.0. Il funzionamento di questa pagina è molto semplice, nel senso che vi lascio il link in descrizione a proposito. È possibile creare le Build fino a livello 50, dopodiché come vedete io ho cominciato a distribuire un po' i punti, 13, 14, 20, 10, 13 e a seconda dei punti che diamo nelle varie caratteristiche, nelle varie categorie, quindi fisico, riflessi, intelligenza, capacità, tecnica e freddezza, potremo un po' alla volta sbloccare le varie abilità e perk che influiranno ovviamente sul gameplay mentre giocheremo a Cyberpunk. La cosa che mi ha colpito di questo pianificatore di Build è che hanno dato la possibilità di vedere anche le informazioni relative all'update futuro, cioè quello di Phantom Liberty, il DLC. Quindi ci sono già delle informazioni relative all'espansione, oltre a quelle presenti nell'aggiornamento. e la cosa interessante è che ci sono delle vere e proprie Build, che poi tra parentesi CD Projekt ha anche distribuito attraverso dei video che adesso andremo a vedere, apparentemente molto interessanti, che vanno letteralmente a cambiare completamente tutto il gameplay che fino adesso ho mostrato. e quindi direi di chiudere un attimo questa pagina e di passare direttamente sui video, perché sono tre video che sono stati proposti, uno, due, tre, quello del Bullet Time Ninja, quello dell'Eck and Slash Netrunner e Savage Slugger solo. Ma direi di partire con questa, visto che comunque è quella che mi interessava, visto considerato che si parla del corpo a corpo, ok, allora abbiamo armi contundenti, in questo caso un martello da sfondamento, ok, quindi ci sono delle abilità che ci consentono di effettuare una carica, ok, stordimento ad aria e, mazza quanti nemici, stordimento ad aria è molto utile nei gruppi più numerosi di nemici, anche in questo caso, poi abbiamo l'effetto del gun shooting che coinvolge anche due personaggi, o con gli effetti anche di bruciatura, incenerimento, e questa sarebbe una sorta di invincibilità. Ah, ok, possiamo letteralmente acchiappare i nemici e lanciarli contro gli... Ah, madonna cara, gli sbagli... No, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Aspetta, voglio rivedere questa cosa. Allora, lanciamo il nemico, questo letteralmente viene smembrato o smembra il nostro bersaglio, di madonna cara, madonna cara le animazioni. What? Ma, ma no, ma coinvolge anche uno che non c'entra niente, aspetta. Ok, vabbè, questo è probabilmente un errore, però... Lanciamo un nemico contro l'altro tizio sulla torretta, qui prendiamo letteralmente a cazzotti questo, e lo sbalziamo via. Madonna il ragdoll, ragazzi, madonna il ragdoll. Però vabbè, prendiamolo per buono ormai, ormai il gioco è questo, quindi non si può pretendere più di tanto. Comunque, vabbè, per quanto riguarda il combattimento corpo a corpo, si va proprio sulla devastazione, sugli squartamenti, è già una roba veramente impressionante. Ok, e questo per quanto riguarda il combattimento corpo a corpo. Adesso andiamo su un'altra parte, quella legata all'Hack and Slash e a Net Running. Qui, in teoria, dovrebbe essere una cosa legata al Cyber... Al Net... All'Hacking, non al Cyberware. Beh, vabbè, Cyberware Hacking. Allora, abbiamo Short Circuit. Ha tre Short Circuit di fila, quindi possiamo concatenare una serie di abilità legate all'Hacking in sequenza, per creare delle combo, anche su nemici molteplici. Ok, beh, questo da... Snellisce un po' di più il gioco, onestamente. Florit sarebbe... Self Distract... Ah, ok, possiamo controllare i mezzi, giustamente. E boom. Perfetto. Vabbè, giustamente, visto che... Metto un attimo in pausa, visto che comunque stavo andando avanti. Giustamente c'è anche l'aspetto legato ai mezzi e... Quindi avremo anche la possibilità di adoperarci per controllare il traffico. Mi piacerebbe sapere fino a che punto il gioco non si romperà facendo queste cose. Perché non vorrei che esagerando il gioco possa inevitabilmente overbuggarsi, glitcharsi, eccetera, eccetera. Perché c'è... Ok, va bene, ok, ci sono altre... C'è più o meno le stesse feature di prima, riproposte. Ok, questo è il Net Running. Interessante, dal mio punto di vista. Però, ripeto, l'onta dei bug. Ho paura, ho paura di quello. Ho paura dei bug, più che altro, ragazzi. Non tanto di quello che si può fare. Andiamo al terzo e ultimo. Che è quello del Bullet Time Ninja. Che questo riguarda le armi da fuoco, se non sbaglio, visto che prima... Ah, no, katane. Ok, abbiamo delle katane. Saltiamo, schiviamo. Ah, ok, quindi per delle build velocissime, legate al corpo a corpo, ma col combattimento con le armi da taglio, in questo caso. Ah, sì, ecco, l'unica cosa è che... Ecco, l'unica cosa che ho visto anche nei precedenti video è che i combattimenti mi sembrano molto sporchi. Sono molto frenetici. Ci sono più situazioni sicuramente dove potremo fare tanti danni ad aria contro tanti gruppi di... Contro tanti nemici. Però io vedo tanto caos, onestamente, in tutto ciò. Ah, bello questo, dove possiamo deflettere i colpi dei nemici. Qui abbiamo il Manta Style che... Ah, bello questo, ok, una finisher. Fantastico. Molto interessante. Ok, qui, come era stato suggerito dal trailer, qui effettivamente possiamo saltare, zompare dai veicoli in movimento per saltare direttamente in faccia al nemico. Beh, questo è molto bello come cosa. Cioè, mi piace il fatto che il Manta Style abbia... Ah, abbiano deciso di dare nuova vita al Manta Style. Sì, questa cosa mi ricorda tantissimo Ghostrunner, ragazzi. Non so se avete presente quell'indie dove effettivamente eravamo dei cyborg potenziati con una katana dovevamo zompare sui nemici esattamente come questo. Esatto. Sì, questo mi ricorda tanto Ghostrunner. Non so se abbiano... Ci hanno attinto a quell'idea per fare... Per evolvere questo sistema di gioco. Comunque, vabbè, mi fa molto piacere questa cosa, onestamente. Non hanno risparmiato delle scene di ultraviolenza, onestamente. Ok, va bene. Tutto molto granguignolesco, violento, eccetera, eccetera. Per quanto mi riguarda bisogna provarlo. Pad, tastiera e mouse alla mano, pad alla mano, eccetera, eccetera. Perché così sembra tutto apparentemente molto interessante, ma come sempre bisogna provare con mano prima. Provare per credere, ecco, in buona sostanza. Sì, sto rivedendo questa parte, ragazzi, perché mi dà l'idea di situazioni in cui io onestamente non mi troverei mai. Semplicemente perché opto per delle scelte abbastanza stelte. Cerco di giocare in maniera molto pulita. Quindi penso che la mia build sostanzialmente sarà legata molto al net running. In questo caso abbiamo... sì. Penso che sarà una cosa di questo tipo. Giocando molto stelte, cercando di non farmi spottare. E sarà un mix tra questo e probabilmente questo, forse. Mi piace l'idea di dover zompare contro il nemico ed effettuare una finisher. Quindi l'idea potrebbe essere adoperare il net running per infliggergli danni non letali e poi finirlo con armi da taglio. Oppure, perché no, magari adoperando delle armi silenziate. Comunque ragazzi, questo è quanto. Mi pare di aver capito che probabilmente CD Projekt, visto e considerato che il gioco di per sé non poteva essere... Diciamo, non poteva diventare un gioco di ruolo dal mio punto di vista. Ma si sono concentrati unicamente sull'aspetto totalmente action della cosa. E l'hanno esaltato, l'hanno esagerato. Bisogna vedere adesso come saranno le cose a livello di combattimento stradale. Visto che ci sono le automobili, visto che la polizia ci inseguirà, visto che sarà più interessante dal punto di vista del combat. Però questo è ancora tutto da vedere. Ragazzi, questo è quanto per l'update 2.0. Ci tenevo a mostrarvi qualche mia impressione, visto e considerato che... I video sono stati pubblicati da poco, quindi vabbè, volevo fare questa cosa. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Come sempre, io vi ricordo di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale e magari fatemi sapere anche quale potrebbe essere la vostra ipotetica build. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao a tutti!